Ciao, sono Alberto, repartista dei supermercati Alì. L'attenzione e la cura che mettiamo nei gesti quotidiani ha sicuramente un ruolo fondamentale. Ogni giorno controlliamo la data di scadenza di yogurt, formaggi e tutti i prodotti del Banco Latticini, in modo da farvi trovare sempre prodotti freschissimi. Tra i nostri scaffali avrete sempre la certezza di trovare la massima qualità al prezzo migliore. Alì supermercati da 50 anni sentirsi a casa.